I carabinieri della stazione 10 Castello hanno arrestato una donna ritenuta responsabile di omicidio e di circonvenzione di incapace ai danni di una prozia ottantenne. Le indagini hanno permesso di fare piena luce sulla morte dell'anziana donna a seguito dell'ingestione di cibi solidi nonostante le patologie invalidanti da cui era affetta glielo impedissero. Fondamentali sono state le dichiarazioni della donna acquisite dai carabinieri in punto di morte, appena il giorno prima che morisse, che hanno permesso di ricostruire come questa fosse stata portata fuori a pranzo dalla pronipote e avesse in questa circostanza mangiato un piatto di spaghetti e un dolce che le avrebbero poi provocato la morte. Ma la morte stessa era l'epilogo di un disegno criminale più ampio ordito dall'indagata, che si era fatta prima nominare procuratrici speciale e poi erede testamentaria universale, di modo da impadronirsi della cospicua eredità della donna.